Benvenuti a una nuova intervista dell'Agenzia Italpress, siamo con Benemino Quintieri, Presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo. Presidente, si avvicina alla fine dell'anno che 2023 è stato per l'ente che lei rappresenta. È stato un anno difficile per motivi a tutti i nostri, ma è stato un anno in cui l'Istituto ha rafforzato l'impegno al sostegno dello sport, sostenendo finanziariamente federazioni e società sportive, università e via dicendo. È un anno difficile perché è un anno in cui l'aumento dei tassi di interesse, che già è costoso in generale, lo ha ancora di più per chi eroga servizi sportivi. Si tratta di associazioni con una bassa profittiabilità, per cui l'aumento dei tassi. Da questo punto di vista il nostro intervento che permette di abbattere i tassi di interesse è stato fondamentale. Quindi direi, nonostante anche l'incertezza che regna in questo momento nel mondo economico e nel mondo dello sport, credo che sia stato un anno molto positivo. In Italia una delle necessità è quella della riqualificazione delle infrastrutture e in questo il credito sportivo è sempre stato in prima linea. Quali sono i progetti per il futuro in questo senso? Intanto c'è da dire, come diceva lei, che le nostre infrastrutture sportive, al di là del numero, sono anche caratterizzate da un elevato livello di obsolescenza, perché il 60% delle infrastrutture oggi ha almeno 40 anni e quindi questo richiede, sono quindi infrastrutture che necessitano di essere riammodernate. C'è un problema molto grave che quest'anno si è emersa in tutta la sua forza, che è quello dell'energia, nel senso che sono infrastrutture ad alta intensità di consumo energetico e questo è stato, abbiamo stimato, che per le società sportive ha avuto un costo di circa 800 milioni di Euro, quindi mettendo a rischio i conti di queste società. Quindi investire nelle nuove infrastrutture, nelle infrastrutture esistenti, mettendole, diciamo riammodernandole, rendendole più efficienti dal punto di vista anche economico, quindi con un efficientamento energetico, credo che sia una delle varie questioni che dovremmo affrontare nel 2024. Ecco, lei parla di più investimenti nelle infrastrutture per lo sport, questo vale soprattutto per il meridione? Sì, io dico sempre da economista che il gap che divide il sud dal resto del nord nel campo dello sport è ancora maggiore di quello che si rileva, questo numeri alla mano, quindi il mezzogiorno avrebbe bisogno ancora di più rispetto al resto del paese di investimenti nelle infrastrutture sportive, considerando due aspetti, il primo che nel sud c'è un numero di praticanti inferiore a quello del nord, quindi abbiamo bisogno di portare più gente a fare sport anche per motivi legati alla salute e per far questo però dobbiamo creare le infrastrutture. Da questo punto di vista il PNRR ha dedicato a mio parere troppo poche risorse, parliamo di 700 milioni e noi abbiamo affiancato queste risorse del PNRR con una linea di credito che quindi permette di incrementare la potenzialità di erogazione, lì credo che prevede tassi abbattuti o agevolati e quindi pensiamo di dare un ulteriore sostegno all'opportunità in parte mancata da questo punto di vista che è quella del PNRR. Presidente, come può l'Istituto del Credito Sportivo essere una parte fondamentale nella diffusione della cultura sportiva in Italia? Questo è un aspetto interessante perché in Italia ancora, per quanto in uno dei praticanti sia in crescita, ancora registriamo un ritardo rispetto ai paesi dell'Unione Europea, quindi dobbiamo recuperare e l'altra questione è che nelle scuole si fa troppo poco sport, bisognerebbe aprire un capitolo a parte, ma non è questa la sede sulle infrastrutture scolastiche, quindi il primo passaggio deve essere quello delle scuole, dove si fa più cultura sportiva, più sport, eccetera, eccetera. Per quanto ci riguarda io credo che le infrastrutture, noi abbiamo due, per rispondere alla sua domanda a due questioni, la prima le infrastrutture, la costruzione o infrastrutture incentiva a spingere più gente a fare sport, considerando che le infrastrutture sportive sono centri di socialità, quindi non hanno solo un valore in quanto permettono una maggiore parte della sportiva, ma perché sono un luogo di aggregazione, quindi tolgono tante persone dalla strada o le fanno uscire da casa. La seconda questione è, sosteniamo, anche se noi siamo una banca, non sarebbe la nostra primaria attività, quei programmi che le associazioni sportive, che sono tante in Italia, hanno anche una capillarità sul territorio, quindi sosteniamo queste associazioni che appunto portano meritoriamente avanti questa azione di promozione dello sport. Bene, ringraziamo il Presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Beniamino Quintieri, e diamo appuntamento a una nuova intervista con l'Agenzia Italpress.